In attesa di conoscere i nomi dei piloti europei che arriveranno in Molise per prendere parte al 24esimo slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini, in programma il prossimo 22 maggio, le curve della Gildonese mettono in palio punti per il campionato italiano e per il Cez. Arrivano le prime iscrizioni degli italiani, difenderanno i colori del Molise e Fabio Emanuele, il pilota della Campobasso Corse su Osella, che detiene il titolo italiano, e Martina Iacampo, la campionessa europea slalom 2015. Hanno già perfezionato la loro iscrizione Binaccia in gara su Osella. Miglionico e Buoninsegna entrambi su Radical, Sambuco su Fiat 127. Allo start anche Scrocca su Sport Prototipi, Carnevale Fiat X19 e Santoro su Radical S3 1006. La Molise Racing ha perfezionato invece le iscrizioni nella gara di regolarità per Gian Battista su Opel GT, De Castro su Mini Cooper 1003, Falcione su Lancia Beta, Monte Carlo e Cobucci. Lavoro incessante per l'Aci Campobasso, la Molise Racing e la Tecno Moto Racing Team, che sabato porteranno lungo Corso Vittorio Emanuele un'anteprima dello slalom, città di Campobasso, memorial Gianluca Battistini con motori in città. Dalle 9 alle 21 nel centro città saranno esposte auto da slalom, medarelli, vetture storiche, mini moto e kart per tutti gli sportivi e non che vorranno scattare foto. A proposito di foto, in occasione di motori in città, gli iscritti al concorso fotografico Emozioni e Motori potranno realizzare i primi scatti. C'è tempo fino a domani invece per iscriversi al campionato Weird All Time Attack. Il lungo Corso Vittorio Emanuele verrà posizionato un simulatore di guida che darà vita al campionato virtuale. Anche i semplici curiosi potranno cimentarsi alla postazione guida che ripropone una gara di slalom acquistando un biglietto durante i motori in città. L'automobile Club di Campobasso sarà presente con uno stand informativo a disposizione di tutti i drivers che vorranno presentare la propria iscrizione al campionato e anche al campionato interregionale slalomizzati e regolarizzati. Parte il countdown per il 24esimo slalom città di Campobasso Memorial Gialluca Battistini gara automobilistica che accenderà i riflettori nazionali ed internazionali sul Molisa.